Stiamo lavorando con grande serietà e grande profondità dedicato a tutti gli argomenti. Sono tanti, non sono uno soltanto, anche se a voi piace sempre solo quello. Sono tanti argomenti e li discutiamo con grande serietà e grande profondità. L'accordo è ancora possibile con i sindacati? Secondo me sì, assolutamente. E se non si sostegna parti sociali il passaggio al Parlamento li verrà più difficile. Il PD ha già detto che potrebbe diventare più difficile. Se noi dovessimo sempre lavorare con i se, invece noi dobbiamo concentrarci sulle cose che sono possibili. Io lavoro per un accordo con i sindacati. Si possono fare molti cambiamenti anche senza maggiore assorbimento di risorse. Moltissimi e credo molto buoni. Le risorse purtroppo sono un vincolo serio.